Ciao a tutti, benvenuti nel canale di Accademia dei test. Oggi parleremo di implicazione inversa, contraria e contronominale. Partendo da un'implicazione diretta di quelle che abbiamo visto, quindi P implica Q, le possiamo costruire altre tre, quelle che abbiamo elencato prima. L'implicazione inversa sarà Q implica P, quindi semplicemente inverte l'ordine di P e Q, o se volete inverte il senso della freccia. L'implicazione contraria, quindi non P, implica non Q. Questa volta la freccia rimane nello stesso verso dell'implicazione diretta, ma cambia il valore, o meglio, vengono negate le proposizioni che compongono questa implicazione. Quindi non P implica non Q. E poi c'è l'implicazione contronominale, che è un po' un mix delle prime due, cioè l'implicazione viene invertita, ma viene anche scritta con le negate delle proposizioni, cioè non Q implica non P. Cerchiamo di capire meglio questo concetto con un esempio. Se la proposizione P è il vaso è caduto e la proposizione Q è il vaso si è rotto, allora possiamo costruire quattro implicazioni. L'implicazione diretta è se il vaso è caduto, allora si è rotto, e possiamo immaginare che questa implicazione sia vera, che alla caduta del vaso è corrisposta alla sua rottura. L'implicazione inversa, invece, è se il vaso si è rotto, allora è caduto. Questa è falsa, perché non è detto che la rottura del vaso sia legata al fatto che è caduto, potrebbe essersi rotto per qualche altra causa, per cui non è detto che l'implicazione inversa abbia lo stesso valore di verità di quella diretta. L'implicazione contraria, se il vaso non è caduto, allora non si è rotto. Anche questa non è detto che abbia lo stesso valore di verità di quella diretta, perché il vaso non è caduto, allora non si è rotto, non lo possiamo dire. Non essendo caduto, potrebbe essersi comunque rotto per qualche altro motivo, un po' come abbiamo detto nel caso dell'implicazione inversa. Per ultima, l'implicazione contronominale. Non Q implica non P. Se il vaso non si è rotto, allora non è caduto. Beh, se è vera l'implicazione diretta, allora sarà vera anche l'implicazione contronominale. Se il vaso non si è rotto, allora non è caduto. Se alla caduta del vaso corrisponde automaticamente la sua rottura, che è il motivo per cui abbiamo dichiarato vera l'implicazione diretta, necessariamente se il vaso non si è rotto, non è caduto. Questa implicazione, l'implicazione contronominale, è molto importante. Infatti è logicamente equivalente all'implicazione diretta. Che cosa significa logicamente equivalente? Significa che possiede gli stessi valori di verità in corrispondenza degli stessi valori di verità di P e Q, che ha l'implicazione diretta. Lo possiamo vedere facilmente da questa tavola di verità costruita apposta. Ci sono sempre P e Q, poi ci sono non P e non Q, di nuovo con i valori di verità opposti rispetto a quelli che hanno P e Q. Poi c'è la quinta colonna, che è quella dell'implicazione diretta, che conosciamo, vera in tutti i casi, tranne quando la premessa è vera e la conseguenza è falsa. E poi l'ultima, che è appunto l'implicazione contronominale. Se ci fate caso, l'implicazione contronominale ha i medesimi valori di verità dell'implicazione diretta e di conseguenza sono logicamente equivalenti. Per cui, se vogliamo trovare una proposizione che sia logicamente equivalente a un'implicazione, l'unica certezza è prendere la sua contronominale, cioè negare la conseguenza, metterla come premessa e usare la negazione di quella che era la premessa come conseguenza. Per capire meglio questo concetto vediamo alcuni esempi. Proposizione P fa caldo, proposizione Q vado al mare, P implica Q. Se fa caldo, allora vado al mare. L'implicazione è semplice, quella alla quale siamo abituati. La sua contronominale sarà non Q implica non P, cioè se non vado al mare, nego la conseguenza, che diventa premessa, allora non fa caldo, nego la premessa che è diventata conseguenza. Le ultime due proposizioni, cioè P implica Q e non Q implica non P, sono logicamente equivalenti. Una è la contronominale dell'altra. Ancora, proposizione P, non piove. Proposizione Q, vado al cinema. L'implicazione diretta è se non piove, allora vado al cinema. L'implicazione contronominale è se non vado al cinema, allora non piove. Anche in questo caso le ultime due proposizioni sono logicamente equivalenti. Per questo argomento è tutto. Nel prossimo video parleremo di negazioni multiple e leggi di De Morgan.